Che cosa rappresenta per te e cosa ha rappresentato per te Iocarello Scuro e chi è per te Francesco Nuti? Ma io sono venuto a raccontarlo che la colpa di questo mio mestiere in realtà è tutta sua tutta sua perché da fan quando io ho visto Madonna e Silenzio C'è stasera ma ancora prima quando ho visto i Gian Cattivi mi piacevano da morire, devo dire mi piacevano da morire tutte e tre perché erano tre talenti meravigliosi tutte e tre messi insieme Poi quando si è staccato Francesco e ha fatto questo primo suo film Madonna e Silenzio C'è stasera sono andato al Manzoni con un amico, un collega e di solito sai i colleghi specialmente quelli piccini tendono a dire quello che lui disse ma dove vuole andare questo mi disse io dissi no dove vuole andare, dove è andato e dove vorrei andare io e allora incominciai ma lo racconterò anche stasera a fare quello che pensavo avesse fatto nel suo percorso e ci sono riuscito con dei risultati che non sono quelli perché credo che sia veramente un maestro ed è riconosciuto tale perché di quella generazione fatta di troisi, verdone, eccezionale e nuti è forse quello che chiaramente per noi soprattutto che si parla la stessa lingua è quello che ha pennellato meglio la comicità dei comici anni 80, 90, 2000 Ho detto tutto Ho detto tutto Ecco allora ti faccio una domanda purtroppo scendo anche dalla serata in questione visto che comunque bisogna sfruttare la tua presenza tra virgolette allora ti chiedo che cosa pensi parlando dell'attualità di Firenze della questione stadio visto che se ne discute parecchio Ma io non ci ho capito nulla, io non ci ho capito nulla ho capito semplicemente che lo voleva fare con i soldi commisso e invece hanno detto no perché tu li vuoi spendere te si spende a noi che torna? Sì, più o meno PNRR Per cui ecco vedi per cui insomma no no ho visto, mi sono informato che certi progetti le devano in qualche modo l'opera d'arte e comunque lo è, le ha anche ragazzi e le ha lo stadio di Firenze e le è su passaporti sicché tanto venivo male non deve essere però sai sono cose noi da spettatori si possono raccontare solamente in folklore di preciso non so l'importante è che la Fiorentina ne vada bene poi che la giochi in uno stadio fatto con il Lego pagato da commisso o da una zia di Ceccherini a me va bene uguale Ecco ma visto che comunque Francesco Nuti è anche tifoso della Fiorentina ti chiedo proprio a proposito dei tifosi sarà un bel danno per i sostenitori della Fiorentina che dovranno traslocare dovranno andare in trasferta per due anni perché visto che ci sono questi lavori di ristrutturazione per due anni dovranno andare in trasferta In due? Non si sa ancora Forse Empoli forse anche fuori regione Speriamo vadano a Pontassieve così sono vicino a casa mia li può vedere in ciabatte però sai d'altra parte quando ci si sa lavoro in casa bisogna andare a vivere dalla zia sicché se noi questo stadio si può rimettere a posto e si andrà a giocare a Empoli l'importante ti ripeto è andarci con lavoro sai tutte le tifoserie italiane sono accese quella di Firenze mi sembra particolarmente gudoriosa e accenzosa e si piglierà la macchina a chi vorrà e andrà in dove ci trasferiscono Senti, cosa vorresti dire a Francesco oggi? Ma gli vorrei dire che quelle cose che ho detto prima che è un maestro che gli si è voluto e gli si vuole tanto bene se viene guarda lo sai il termometro dei beni annuti è Ceccherini se viene se viene perché ora mi ha già detto un ci sono all'otto arriva all'otto e mezzo io finché non lo vedo capito? dovesse venire quello è il termometro perché Ceccherini non si smuove da casa neanche per il suo funerale cioè se lui muore dice no lasciami qui al letto buttatemi un po' di terra addosso e un fiore in bocca e un altro in sedere tanto l'immagine mi sembra bella il Ceccherini morto con due fiori uno in sedere e uno in bocca e invece si arriva infatti mi ha detto ma il che devo dire te vieni qualcosa tu dici sicuramente